Sai una cosa? Non si decidono mai a piantarla con la mafia a Providence. E questo mi può dare un sacco di problemi. Quei due ragazzi che hai sistemato hanno conoscenza giù a Providence. Quindi sai che faranno? Si presenteranno con i loro conoscenti e ti uccideranno. E quanto è vero che sei nato, è quello che faranno. A meno che io non li fermi. Tu vuoi che io li fermi? Non lo posso fare personalmente? Dovrò chiedere al mio socio di perquisirti. No, no, a me non mi perquisisce un cazzo di nessuno. Contravvando, figlio mio, levati le scarpe, forza. Scarpe. Conoscevo tuo padre. Sì. Sì. Lo sa che è morto. Oh, mi dispiace. Come sei andato? In piedi. Senza lamentarsi. Apri le gambe. Già. Era il suo problema. Chi ha detto che aveva un problema? Lo dico io che aveva un cazzo di problema. Quell'uomo poteva diventare qualcuno. Sto dicendo che non era nessuno. Sto dicendo che lavorava all'aeroporto. Ok, è pulito. Il braccio. Vieni qua. Il braccio? Ma quale braccio, cazzo? Fammi vedere il braccio. Votale. Lo sai che mi incuriosisce vederti girare in questo quartiere, ragazzo? Apunto. E se posso dire male del mio stesso ambiente? Mi rattrista questa regressione. E poi, chi lo sa se non è venuto in mente a qualche sbirro del cazzo tipo Quinan il trucco di cacciarti dalla polizia per metterti alle mie calcagna? Io non lo so. Non so neanche che cosa fanno in quel particolare reparto comunque. Sei ancora un poliziotto? Lo giuri sulla tomba di tua madre che non sei ancora un poliziotto? No, cazzo, non sono più un poliziotto. E la pianterai di spacciare cocaina con quel cazzone di merda di tuo cugino? Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Ho capito. Sei a posto, adesso ti passo. Vieni, fatti curare la mano. Mi dispiace, ma... Era necessario.